Edison presenta Risolve. Passa Edison per luce, gas e wifi e con Risolve, il servizio che installa, protegge e ripara, hai tante soluzioni per la tua casa. E in più, con spendi e riprendi, puoi richiedere fino a 360 euro di bonus crescenti in bolletta. Chiama 800 14 14 14 o vai in uno dei mille negozi Edison. Risolve, che spettacolo!